La scuola rischia una falsa partenza sul rientro in classe muro contro muro tra governo e regioni. Sicilia e Campania rinviano il rientro. I presidi dicono possibile l'assenza del 10% del personale, ma l'esecutivo ribadisce il tutti in classe il 10 gennaio. Il calcio a porte quasi chiuse, solo in 5.000 allo stadio. L'Assemblea della Lega Calcio di Serie A ha approvato la delibera che limita il numero di spettatori dal 16 gennaio per due turni per contrastare l'emergenza Covid. Primo weekend di saldi tra spese e timori, previsto un giro d'affari di oltre un miliardo, ma la paura dei contagi e le incertezze economiche rischiano di frenare la caccia allo sconto. Si indaga sulle molestie sessuali di gruppo verificatisi nella notte di Capodanno a Milano nei pressi del Duomo. L'aggressione più violenta riguarda due ragazze, ma gli episodi potrebbero essere molti di più. Ciò che conta per la vita sono i rapporti umani. Ai membri dell'Associazione Santi Pietro e Paolo si rivolge così Papa Francesco, che invita a fare tesoro dell'esperienza della pandemia e a ricominciare con più umanità, guardando a Gesù con la speranza nel cuore. Buonasera e benvenuti al TG2000. Da lunedì altre quattro regioni in giallo. Il contagio aumenta in modo rapido, dice l'Istituto Superiore di Sanità. L'obbligo vaccinale spinge gli ultracinquantenni a vaccinarsi, triplicate le dosi somministrate. Il servizio è di Beatrice Bossi. Chi non è vaccinato verrà colpito dalla variante Omicron con assoluta certezza. Cioè nei prossimi tre mesi, chi non ha fatto fino ad oggi il Covid lo farà. Ci saranno alcuni che lo faranno bene, ci saranno alcuni che lo faranno meno bene, e ci saranno alcuni che lo faranno molto male. Il riferimento di Matteo Bassetti è alle persone non vaccinate. Per loro il rischio di finire in terapia intensiva è 25 volte superiore di chi ha completato il ciclo vaccinale, come scrive anche oggi l'Istituto Superiore di Sanità. Nel momento in cui il sistema sanitario va in collasso, non va in collasso per chi non si è vaccinato, va in collasso per tutti gli altri. I due terzi dei posti letto nelle terapie intensive sono occupati da persone che non hanno ricevuto alcuna dose e ripetono i medici da ogni angolo d'Italia. Gli ospedali sono al collasso, le soglie critiche sono già state superate. Anche i contagi continuano ad aumentare. Chi studia l'andamento dell'epidemia stima 400.000 casi al giorno per la prossima settimana. Il bollettino giornaliero intanto oggi segna oltre 197.000 nuovi casi e 184 vittime. Prudenza e vaccini, le parole d'ordine per uscire da questa nuova ondata. Le immagini delle code ai centri di vaccinazione fanno ben sperare. Le prime dosi agli over 50 sono addirittura triplicate, ha detto il commissario all'emergenza, il generale Figliuolo. Intanto, da lunedì, altre quattro regioni passeranno in zona gialla. Abruzzo, Toscana, Emilia-Romagna e Valle d'Aosta si aggiungeranno alle altre dieci già sotto osservazione. Il decreto contenente anche l'obbligo vaccinale per gli over 50 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Lunedì, in una conferenza stampa, il premier Draghi farà il punto su tutte le misure. Leonardo Possati. Vita dura per chi ha compiuto 50 anni e non si è ancora vaccinato. Con il nuovo decreto pubblicato ieri dal governo scattano nuove misure per contenere la pandemia e invogliare le persone ancora arrestie a sottoporsi alle tre dosi. La prima novità è quella che impone l'obbligo vaccinale agli over 50, che hanno tempo fino al primo febbraio per fare la prima dose. Per chi deciderà di non vaccinarsi arriva poi una multa da 100 euro. L'Agenzia delle Entrate incrocerà i dati della popolazione residente con quelli delle anagrafi vaccinali regionali e invierà tramite pecora comandata la comunicazione all'interessato. Qualcuno lamenta una possibile violazione della privacy. Nei prossimi giorni sulla questione si pronuncerà il garante. È immaginabile comunque una pioggia di ricorsi. Non mancano poi le polemiche sull'entità della cifra. 100 euro sono pochi, lamentano in molti, soprattutto tra i medici e gli infermieri che ogni giorno in prima linea lottano contro il coronavirus. Su questo punto il governo fa notare che questa non è l'unica sanzione nei confronti di chi non si vaccina. Dal 15 febbraio, infatti, sempre per quanti hanno più di 50 anni, entra in vigore l'obbligo di Green Pass rafforzato per andare al lavoro. Ricordiamo che il Green Pass rafforzato si ottiene solo ed esclusivamente tramite vaccino o guarigione dal Covid-19 e non con un semplice tampone. In questo caso chi viola le norme soggetto alla sospensione dal lavoro senza retribuzione e ha una sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro. Dal 10 gennaio a lunedì prossimo, invece, il Green Pass rafforzato è obbligatorio per accedere ad alberghi, centri congressi, ristoranti, palestre, aerei, treni e navi. Mentre dal 1 febbraio sarà obbligatorio il Green Pass base per entrare in tutti i negozi con tanto di ammenda da 400 a 1.000 euro per i trasgressori. Tutte regole che ci accompagneranno per mesi e che il Presidente del Consiglio Mario Draghi lunedì presenterà in una conferenza stampa a Palazzo Chigi. Lunedì si torna a scuola ma è muro contro muro fra il Governo da una parte, i Presidenti delle Regioni, l'Ordine dei Medici, i Sindacati e i Presidi dall'altra, che chiedono un posticipo di almeno 15 giorni. Il servizio è per Luigi Vito. Governo contro Regioni. È in atto una vera battaglia sulla riapertura delle scuole in programma in quasi tutta Italia per lunedì, questo almeno sulla carta. Ad accendere le polveri è stato il Presidente della Campagna De Luca che ha stabilito la sospensione della didattica in presenza dalla scuola dell'infanzia alle medie fino al 29 gennaio, un'ordinanza che trova il sostegno dei presidi. È molto fondata. La criticità sta nel fatto che mancando il personale docente e il personale ATA noi non riusciamo praticamente a gestire il fabbisogno quotidiano che ci serve per mantenere appunto la scuola aperta tutti i giorni e quindi la sorveglianza delle classi. Ma se il Governo si prepara a impugnare il provvedimento della Campania, ecco che la Sicilia annuncia che le scuole dell'isola non riapriranno in presenza prima di giovedì per dare modo ai dirigenti scolastici di verificare tutti gli aspetti organizzativi. All'attacco dal Veneto anche il Presidente Zaia si rischia un calvario con la riapertura della scuola, ha detto a Lanza. Tra insegnanti colpiti dal Covid, altri assenti per malattia, altri ancora Novax e nuove regole della DAD, si profila una falsa ripartenza. Concorda l'Associazione Nazionale Presidi, che stima per lunedì assenti 100.000 dipendenti della scuola su un milione, tra docenti e personale ATA, ovvero un 10% del totale. E intanto, lungo tutta la penisola, dalla Lombardia alla Calabria, in queste ore si succedono le ordinanze dei sindaci che rinviano di diversi giorni la riapertura delle scuole. Solo 5.000 spettatori potranno accedere agli stadi dal 16 gennaio per due turni e una delle decisioni prese dalla Lega Calcio di Serie A poco fa in un'assemblea straordinaria per contrastare l'emergenza Covid. Federico Plotti. Dopo la telefonata di ieri del Premier Draghi al presidente della Federcalcio Grevina, in cui il primo ministro sollecitava il mondo del pallone a valutare anche la possibilità di chiudere gli stadi alla luce della difficile situazione sanitaria, convocata oggi dalla Lega di Serie A, un'assemblea d'urgenza che si è conclusa poco fa. I presidenti delle squadre della massima serie, notoriamente contrari alla chiusura al pubblico degli impianti sportivi, sembrano aver colto le sollecitazioni di Draghi e così è stato disposto all'abbassamento della capienza degli stadi, ora al 50%, a un massimo di 5.000 spettatori, ma solo per i turni di campionato del 16 e 23 gennaio, gli ultimi prima della pausa per gli impegni della Nazionale di Mancini. Si discuterà di questo, ma non solo, alla conferenza Stato-Regioni di mercoledì prossimo, allargata anche alle federazioni di calcio, volley e basket. Sul tavolo ci sarà certamente la questione delle quarantene, imposte alle squadre delle aziende sanitarie locali, che solo giovedì hanno fatto saltare quattro partite, il cui destino e probabile recupero resta ancora sotto il giudizio del giudice sportivo. Intanto la Lega di Serie A ha vinto tre dei quattro ricorsi presentati contro i provvedimenti di quarantena disposti dalle asle di Friuli, Piemonte e Campania, che di fatto avevano bloccato in isolamento anche i calciatori negativi di Udinese, Torino e Salernitana, che adesso potranno essere schierati già da domani. Solo il Bologna resterà in quarantena, il Tar dell'Emilia Romagna ha infatti rigettato il ricorso e così domani non potrà scendere in campo a Cagliari. Incidenti ci sono stati nel pomeriggio a Parigi, nella manifestazione No-Vax contro le nuove misure che stanno per scattare dal 15 gennaio, che prevedono un pass sanitario rafforzato per accedere a trasporti e attività. A pochi giorni dalle dichiarazioni anti-No-Vax di Macron e mentre è in corso in Parlamento un accesissimo dibattito sul pass vaccinale, i francesi sono scesi in piazza in tutto il paese. In particolare a Parigi la polizia ha disperso i manifestanti e sono intervenuti il nucleo di intervento rapido e gli agenti anti-sommossa. Ci spostiamo in Kazakistan per la crisi in seguito alle rivolte popolari per l'aumento del gas che sono state sedate nel sangue. Arrestato con l'accusa di alto tradimento l'ex capo dell'intelligence Massimov e intanto Putin ha avuto un lungo colloquio con il presidente Tokayev con l'obiettivo di ristabilire l'ordine. Marco Bergamaschi. L'ex capo dell'intelligence Kazakistan Karim Masimov ex primo ministro alleato di lunga data dell'ex leader del paese Nursultan Nazarbayev è stato arrestato con l'accusa di alto tradimento. Il suo arresto è il primo parvenimento preso contro un altro funzionario dell'ex Repubblica Sovietica dell'Asia Centrale nella crisi in atto. Si tratta dell'ultimo episodio di quella che pare una guerra all'interno dell'elite scatenata dalla tentata rivoluzione di popolo contro l'autoritarismo e i privilegi del trentennale sistema di potere in vigore in Kazakistan dal crado dell'Unione Sovietica. A scontrarsi sarebbero il circolo del potente Nazarbayev e quello del suo delfino l'attuale capo di stato Tokayev da anni suo fedele collaboratore ma che sembra aver improvvisamente cambiato rotta. Intanto è denoto il Cremlino il presidente russo Putin ha avuto un lungo colloquio telefonico proprio con Tokayev per ristabilire l'ordine nel paese dopo le proteste senza precedenti degli ultimi giorni sedate ieri al prezzo di una durissima repressione con morti e feriti. Proteste che si sono concentrate in particolare dal Mati la capitale economica dove l'aeroporto rimarrà chiuso fino a lunedì. I due capi di stato hanno concordato su un vertice in remoto dei presidenti dei paesi e dell'organizzazione del trattato di sicurezza collettiva dedicato alla crisi in Kazakistan che si terrà nei prossimi giorni. Rispetto al 2019 ammonta quasi 36 miliardi di euro l'extracosto che le imprese italiane sosterranno quest'anno a causa dell'aumento del prezzo delle tariffe elettriche lo afferma l'ufficio studi della CGA di Mestre secondo cui nel giro di tre anni il costo della bolletta della luce in capo alle aziende è pressoché raddoppiato un incremento che sommato al rincaro del gas costringerà molte attività almeno temporaneamente a chiudere gli impianti produttivi. Primo weekend di sconti per i saldi invernali la Confesercente stima un giro d'affari di 1,3 miliardi di euro ma la paura dei contagi e le incertezze economiche frenano i consumatori. Giuseppe Caporaso Primo weekend di sconti e saldi nei negozi lungo la penisola un momento fondamentale dell'anno per i conti nei negozi ma anche per le tasche dei consumatori. Quest'anno secondo un sondaggio di Confesercente e Ipsos quattro clienti su dieci inizieranno a fare shopping proprio tra oggi e domani per una spesa prevista di 1,3 miliardi di euro in cima ai desideri degli italiani secondo questa analisi di Confesercente ci sono le scarpe poi la maglieria i capi spalla cioè giacche cappotti impermeabili i capi di camiceria magliette intimo e le borse a farla da padrone durante i saldi i punti vendita fisici quando ne vedete facciamo acquisti a Mauro e Buono grandi matti nel senso multinazionali ecco però roba estiva invernale no quelle li compro con i saldi ad agosto le cose invernali faccio il contrario la pandemia che abbiamo in atta e che stiamo vivendo ci ha un po' fatto passare anche il desiderio di fare questo anche il desiderio di fare questo mi ha fatto passare perché siamo in continuo apprezzamento il primo weekend di saldi tra i negozi deve però far fronte alla crescente paura della gente visto il dilagare di Omicron l'aumento dei contagi sembra spaventare i consumatori soprattutto per il timore di assembramenti davanti ai negozi si calcola una quota di circa un milione di potenziali clienti perduti dai negozi se poi si aggiunge anche quel 20% di persone che hanno deciso di rinunciare per la mancanza di budget da dedicare ai saldi c'è una forte preoccupazione anche tra i commercianti si indaga sugli episodi di gravi molestie sessuali di gruppo verificatisi nella notte di Capodanno a Milano nei pressi del Duomo aggressioni violente a una coppia di giovani tedesche e a un'altra ragazza di 19 anni ce ne parla Barbara Masulli sono trascorsi 8 giorni dalle violenze immortalate in questo video ma le due vittime tedesche sono ancora sotto shock nelle immagini sono irriconoscibili per questione di privacy si vede chiaramente però che sono in difficoltà accerchiate bloccate contro una transenna palpeggiate e molestate da decine di ragazzi una delle due sembra fare un gesto per chiedere aiuto a chi sta girando il video minuti infiniti per le due giovani che a un certo punto vengono spinte cadono per terra e finalmente riescono a liberarsi scappano verso le forze dell'ordine che erano lì a pochi metri e spiegano un po' a fatica a causa delle difficoltà linguistiche quello che hanno subito durante i festeggiamenti per la fine dell'anno in piazza Duomo a Milano festeggiamenti peraltro vietati da un'ordinanza comunale il video è simile a quest'altro pubblicato nei giorni scorsi sulle pagine Facebook e Instagram di un profilo seguito da migliaia di persone e testimonia lo stesso tipo di aggressioni nei confronti di una 19enne che era in compagnia di un'amica moleste avvenute tutte nella stessa notte tutte compiute da un branco e potrebbero essere molte di più la gente guardava nessuno agiva le parole della ragazza che ha girato questo video subito consegnato alla polizia gli inquirenti con l'aiuto dei filmati amatoriali e di quelli girati dalle telecamere di sorveglianza stanno lavorando per identificare i responsabili accusati di violenza sessuale di gruppo l'unico modo che abbiamo per contrastare questi fatti è sicuramente puntare su una cultura che attraversa i nostri territori e che riconosca la libertà delle donne in tutte le sue forme e che quindi decostruisca pregiudizi stereotipi patriarcali che invece impongono ancora una sudditanza delle donne una sua loro subordinazione soprattutto in materia di affermazione di libertà femminile proprio in questo momento nel momento in cui arrivano i fondi per realizzare il PNRR è proprio questo il momento per potenziare una trasformazione culturale che faccia dei territori italiani dei territori liberi della violenza maschile contro le donne la bianca scogliera della scala dei turchi in Sicilia è stata imbrattata di rosso dai gnoti vandali stamani è stato compiuto un sopralluogo dalla soprintendenza di beni culturali aggrigento il promontorio uno dei luoghi più conosciuti e visitati dalla Sicilia candidato anche come patrimonio dell'umanità dell'UNESCO è infatti tutelato da un vincolo paesaggistico per colorare di rosso la marna è stata utilizzata polvere di ossido di ferro un materiale che dovrebbe essere eliminato ci auguriamo senza danni ricominciamo con più umanità guardando a Gesù con la speranza nel cuore è l'invito rivolto da Papa Francesco ai componenti dell'associazione Santi Pietro e Paolo in occasione del cinquantesimo anniversario della nascita oggi anche udienza al sindaco di Roma e al presidente della regione Lazio sentiamo Paolo Fucili ricominciamo certamente facendo tesoro di quanto si è vissuto tenendo conto che siamo tutti un po' cambiati e spero migliorati gli effetti della pandemia si faranno sentire ancora in futuro prevede Francesco e allora mostriamo con più umanità con i fatti la bellezza e la forza del Vangelo incoraggia i membri dell'associazione Santi Pietro e Paolo che festeggia col Papa oggi cinquant'anni dalla nascita erede della guardia palatina d'onore sciolta da Paolo VI ora si occupa di accoglienza a San Pietro e alle liturgie papali e di varie opere di carità ci siamo cambiati un po' tutti è perché ci siamo resi conto con quello che abbiamo vissuto che ciò che veramente conta per la vita sono i rapporti umani guardando a lui ci sentiamo chiamati sempre di più a un servizio quotidiano fatto di accoglienza di condivisione di vicinanza umana udienza oggi come ad ogni inizio anno anche al sindaco di Roma e al presidente del Lazio prima il sindaco Roberto Gualtieri per parlare di lavoro soprattutto e politiche sociali ad iniziare dal piano freddo per i senza fissa dimora della capitale poi Nicola Zingaretti che ha informato Francesco che la regione Lazio finanzierà una raccolta fondi promossa da Medici Senza Frontiere e agenzia ONU per i rifugiati e comunità di Sant'Egilio per l'acquisto di vaccini anti-covid per l'Africa Papa Francesco ha nominato arcivescovo di Catania Monsignor Luigi Renna trasferendolo dalla sede vescovile di Cerignolo Ascoli Satriano Monsignor Renna è anche presidente della commissione CEI per i problemi sociali del lavoro della giustizia e della pace il governo indiano ha restituito alle suore missionarie della carità di madre Teresa l'accesso ai fondi esteri necessari per sfamare i poveri e curare gli ammalati i nostri donatori sanno che quei soldi sono per chi ha bisogno hanno detto le missionarie una mossa quella di Nuova Deli che si inserisce nell'attuale clima difficile per i cristiani nel paese Rita Salerno le missionarie della carità nuovamente a fianco di emarginati e senza fissa dimora in India la notizia riportata dall'agenzia di stampa cattolica UCA News ricorda che dal giorno di Natale i finanziamenti esteri a sostegno della carità della congregazione fondata da Santa Madre Teresa di Calcutta erano stati tagliati in seguito al rifiuto del governo di Narendra Modi di rinnovare la licenza nodo della questione la mancanza di requisiti di ammissibilità per accedere alla registrazione al foregne Contribution Regulation Act la legge che prevede di ricevere contributi dall'estero previa registrazione mettendo a rischio l'attività di 22.000 tra dipendenti ed ospiti dei centri gestiti dalle suore una decisione che ha avuto vasta eco in tutto il mondo considerando anche la difficile situazione dei cristiani nel paese dove sono in vigore leggi anticonversioni intimidazioni e atti vandalici ai danni delle chiese ora il ripensamento del governo per cui la certificazione è stata rinnovata il 6 gennaio ed avrà validità fino al 31 dicembre 2026 per il portavoce delle missionarie della carità Sunita Kumar che si è detto felice per la decisione del governo centrale chi dona sa perfettamente che i fondi sono per i poveri l'ordine delle missionarie della carità che gestiscono case di accoglienza in tutta l'India per bambini orfani e per i poveri è stato fondato da madre Teresa nel 1950 almeno 56 persone sono state uccise altre decine sono rimaste ferite in un attacco aereo su un campo profughi nel nord dell'Etiopia immagini diffuse sui social mostrano presumibilmente persone curate in una scuola della città di Dedebit nella regione del Tigre diffuse anche fotografie di feriti in ospedale tra cui un certo numero di bambini non è chiaro come o perché la scuola sia stata colpita autorizzata ed eseguita l'eutanasia in Colombia è la prima volta che succede in America Latina per un paziente non terminale ci dice di più Cesare Cavoni la morte tramite eutanasia ha acceso le sue luci sinistre su un povero camionista di 61 anni residente a Cali in Colombia Vittor Escobar era afflitto da varie patologie tra cui una broncopneomopatia cronica ostruttiva che lo costringeva a usare costantemente un ventilatore polmonare nulla che gli impedisse di vivere la sua vita seppur con le dovute cure e precauzioni eppure il demone dell'autodeterminazione una sorta di potere che si esercita in maniera autodistruttiva nella nostra società lo ha spinto ad una battaglia legale dove non si vinceva nulla anzi si perdeva sonoramente con la morte la novità se così si può dire sta nel fatto che questa di Vittor Escobar è la prima eutanasia in America Latina per un paziente non terminale la richiesta era partita nel 2020 dopo che la Corte Costituzionale colombiana che aveva aperto 25 anni fa l'eutanasia per i malati terminali di recente aveva esteso la possibilità anche a persone con patologie croniche non si tratta di una primizia a livello mondiale già in Belgio nel 2015 una donna di 24 anni aveva ottenuto l'eutanasia perché depressa dal 2015 in Colombia sono 178 le persone uccise tramite eutanasia soddisfatto l'avvocato della vittima ci incontreremo di nuovo ovunque Dio vorrà queste le ultime parole dell'uomo intrise di tristezza e fatalismo intanto in attesa dell'incontro un Faust qualsiasi ha chiuso la partita immagini incantevoli vediamo ora sono quelle che giungono da New York che si è risvegliata ricoperta da un bianco manto è la prima neve dell'anno che ha ricoperto anche Central Park New Yorkesi turisti e naturalmente tanti bambini si stanno godendo in queste ore lo spettacolo della Grande Mela dove le temperature minime sono scese fino a meno 6 e anche nel nostro paese fine settimana con freddo pioggia e nevicati a bassa quota che si estenderanno dal nord verso il centro e le regioni meridionali da martedì è previsto però il ritorno del bel tempo oggi le piogge interessano soltanto Sicilia, Calabria e Puglia meridionale domani gran parte d'Italia verrà raggiunta da un affondo artico che darà vita a una perturbazione fredda emergono nuovi dettagli sull'esenzione da vaccino anti-covid ottenuta da Novak Djokovic per partecipare all'Australian Open il tennista numero uno al mondo ha ottenuto il certificato perché ha contratto il virus il 16 dicembre ma è già polemica dato che il tennista il 17 dicembre cioè il giorno successivo si sarebbe recato a due eventi pubblici senza mascherina in mezzo ad altre persone e senza distanziamento per ora Djokovic resta nell'hotel dei senza permesso 118 anni fa nasceva in Sicilia Giorgio Lapira un testimone del Vangelo del Novecento e figura di santità a cui guardare in preparazione del congresso eucaristico di Firenze del prossimo settembre ripercorriamo allora la sua vita nel servizio di Vincenzo Grienti 9 gennaio 1904 a Pozzallo terra di sbarchi e terrazza sul Mediterraneo nasce Giorgio Lapira il tuffo nel Vangelo avviene a vent'anni quando si converte al cristianesimo una vita al servizio della politica della povera gente nel 1926 dalla Sicilia si trasferisce a Firenze sarà professore di diritto romano ma anche giornalista nel 1939 pubblica Principi rivista di chiarostampo antifascista verrà chiusa un anno dopo ricercato dalla polizia segreta trova riparo in Vaticano grazie a Giovanni Battista Montini futuro Paolo VI otterrà la tessera di redattore dell'osservatore romano Lapira si salverà dalla persecuzione fascista durissimi sui articoli contro il secondo conflitto mondiale e contro ogni forma di guerra nel 1946 è padre costituente ed eletto nelle file della democrazia cristiana sarà primo cittadino di Firenze dal 1951 al 1957 per tutti il sindaco santo sfrutta la sua amicizia con il petroliere Enrico Mattei per salvare gli operai della Pignone ma lo sguardo del siciliano sindaco di Firenze è dalla città sul monte e rivolto a Gerusalemme cristiani ebrei e musulmani devono lavorare insieme per costruire la pace sono gli anni della guerra fredda e dello spettro nucleare la Pira vola a Mosca da Khrushchev unico politico italiano a parlare davanti al Soviet Supremo lo chiameranno comunistello di sagrestia ma la Pira va avanti sostenuto dalle preghiere delle claustrali e dai pontefici andrà da Ho Chi Minh per scongiurare la fine delle ostilità in Vietnam la sua diplomazia della pace farà cessare il conflitto muore a Firenze nel 1977 e resterà per sempre un testimone del Vangelo al servizio della politica ben ritrovati con l'informazione del TG2000 le autorità sanitarie cipriote hanno reso noto di aver individuato 25 casi di un nuovo tipo di Covid-19 che combina le varianti Delta e Omicron e per questo è stato chiamato Deltacron attualmente abbiamo coinfezioni di Omicron e Delta abbiamo trovato una variante che combina entrambe ha così dichiarato il professor Leon Dios Costrichis docente di biologia all'Università di Cipro e direttore del laboratorio di biotecnologia e virologia molecolare bene con questo è tutto adesso il meteo poi la messa mentre noi con il TG2000 ci rivediamo alle 20.30 arrivederci a presto